Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Buon possesso palla. Ecco il tiro. Che gol! Splendida rete! Questo gol significa molto per loro. Consente di giocare il resto della partita certamente con più serenità. Sono salvi anche in caso di pareggio, Piero. E questa rete rappresenta una sorta di assicurazione per loro.